siamo questa sera sei con noi a effetto notte per anni maniere di munzi la rassegna è dedicata roberto perpignani che è stato un tuo maestro il tuo maestro al centro sperimentale non so in che anni tu hai frequentato il centro il piano era 94 96 poi per ragioni di esercitazioni collaterali si è stese di un anno però più o meno siamo in quella in quegli anni e ti ricordi il tuo primo approccio con perpignani come è stato il momento in cui è cominciato centrale nella scuola ti sei trovato entriamo nel magico e futile mondo dell'anedottica però sì il ora non ricordo esattamente tutte le fasi però il primo approccio avviene chiaramente nella fase di selezione degli allievi che verranno presi o esclusi dal centro sperimentale e mi ricordo la prima volta che lo ti presento che io ero studente di cinema all'università e la figura di perpignani era una figura per me magnificata reificata quindi quando mi sono trovato di fronte perpignani e ne subivo insomma il fascino ed ero molto soggettato a questa figura poi non so per quale ragione poi alla fine mi sciolsi e mi ricordo che mi fece vedere dunque le le selezioni erano erano vari vari step adesso non me li ricordo tutti c'era un'analisi di un film all'inizio poi c'era un uno scritto poi c'era un incontro con roberto perpignani in una sala di montaggio con una persona che si occupava di effettuare i tagli che tu gli comunicavi in quel momento per i miei anni di fianco che ragionava con te su questo ma prima di questa elaborazione c'era un'analisi ulteriore di un film nel mio caso lui mi chiese alcune indicazioni critico analitiche su giovanna d'arco di dryer mi ricordo che fu quello il momento esatto oramai e diciamo ero attrezzato perché all'epoca noi almeno la generazione di quel corso era una generazione che veniva molto erano un po più grandi forse di quelle che ci sono adesso ed eravamo tutti studenti di cinema quindi diciamo quanto meno sull'alfabetizzazione filmologica eravamo abbastanza attrezzati ovvio che non conoscevamo tutto lo scibile del cinema però la gialla d'arco di dryer si quindi fu molto molto interessante e mi ricordo solo questa cosa siccome si lavorava con una centralina io volevo essere molto filologico dicevo a dissi a in quel momento la sua collega operatrice sulla macchina che poi silvia moraic che è una montatrice del suono con cui lavoro da anni soprattutto con i film di sorrentino gli dissi questa inquadratura allunghiamola di 6 frame e lei si voltò capito carica di quel mondo antologico e analogico per cui il cinema nel cinema si dice fotogrammi non frame e lui non ce l'ho solo una parola dicendo gli insegneremo a dire fotogrammi in quel momento dissi aspetta forse forse questa è una buona notizia e quello fu il primo incontro e fu il primo incontro e poi ci sono altri incontri ovviamente nelle lezioni così via da cui ho assorbito tantissimo una cosa che secondo me non sono ancora in grado di fare bene ma ci ci penso sempre quando tendo ad escluderla e che lui ci diceva spesso di non accontentarci mai di una prima versione di non affezionarci mai e soprattutto nei tempi produttivi contemporanei per un montatore quando ti sembra che un'idea sia vincente o quanto quantomeno illuminante cioè illumina te in quel momento c'è anche una sorta di sollievo in questo e poi riecheggiano da lontano le voci di perpignani che ti dicono aspetta non accontentarti troppo della prima versione è una cosa su cui sto lavorando non sempre ci riesco perché è faticoso però mi ha insegnato anche essere buon censore della prima idea fosse anche apparentemente geniale nella tua ottica a discuterla e al limite liquidarla qualora ti rendessi conto che non non era esattamente così efficace è quello che lui definisce cercare il dubbio esatto esatto quella cosa è una faccenda che dialeticamente mi lavora sempre dentro in un periodo questo in cui i tempi si sono condensati tantissimo quindi paradossalmente molto più faticoso rimettere in discussione ma soprattutto magari nella versione premontato del film quando sei in solitario stai lavorando da solo però i sensi di colpa si affacciano pesantemente poco prima del sonno e sono e sono e sono e sono chiaramente sensi di colpa che che vengono da un megafono che quello di roberto pertiniani è fantastico che anche Stefano Cravero che ha fatto un'intervista di te ci raccontava di sentire questa voce di terpino sì certo certo poi c'è forse inconsciamente anche c'è sempre un po' la il pensiero ma cosa ne avrebbe pensato lui cioè so benissimo che il 60 per cento delle cose che ho fatto secondo me non avrebbe pensato bene cioè credo non lo so però però è stato è stato un iniziatore a uno sguardo così importante fondamentale da essere decisivo cioè non li devo tantissimo tutti noi li dobbiamo tantissimo tu hai fatto tanti grandissimi film praticamente tutti quelli di Paolo Sorrentino che sicuramente è un'altra grande personalità con cui ti sei confrontato ma ti è mai capitato c'è mai stato un momento in cui coltivando il dubbio e lavorando hai pensato di prendere il telefono e chiamare Roberto per chiedergli un consiglio molte volte però non ero più nella posizione di farlo a quel punto doveva affrontarli frontalmente i demoni altrimenti era troppo facile chiamare papà quindi ho preferito non farlo però tante volte mi è successo sì 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 cioè diciamo la sua legittimazione per me è importante cioè non lo è perché mi ha segnato a dubitare mi ha segnato a sperimentare mi ha segnato a cercare nei rivoli della dialettica del cinema qualcosa del linguaggio del cinema non della dialettica del linguaggio del cinema qualcosa sempre di alternativo e ci provo non so se ci riesco però è quel tipo di attitudine che è anche il sospetto rispetto a qualcosa che ti sia messo in stato di grazia in quel momento è aumenta ovviamente il tuo giudizio critico sulle cose che fai e lo devo totalmente a lui ti chiedo alcune cose velocemente mi sembra di capire anche che Perpignani sia riuscito a costruire come docente intendo delle classi anche molto coese cioè in qualche modo riusciva a costruire un gruppo di lavoro sei rimasto in contatto con i tuoi compagni? sì certo certo diciamo ora le cose e la vita fanno sì diciamo la persona che forse sento maggiormente però a distanza è Walter che era Walter Fasano perché eravamo al centro insieme anche Maria Grazia Pandolfo Francesca Sambucci, Letizia Caudullo cioè abbiamo grandi ricordi di quei momenti ci hanno formato cioè sono momenti per esempio io venivo dalla provincia e quindi sono momenti indimenticabili cioè non sì sono li voglio molto bene a tutti voglio bene ai miei colleghi dell'epoca, colleghi allievi dell'epoca e anche a Roberto, a Annalisa cioè sono momenti che ti travolgono perché al centro in quel momento non ti sembrava vero di poter discutere così tanto di cinema e noi lo facciamo moltissimo cioè parte delle nostre discussioni erano certo pratiche ma l'aspetto analitico, l'analisi del linguaggio e così via era sempre nelle nostre teste un po' per la nostra formazione forse antecedente però aveva trovato terreno fertile di fronte a un insegnante che era molto sensibile e quindi restituiva la stessa sensibilità di sguardo quindi per me è stato clamoroso e devo dire che quel tipo di esperienza la ritrovo quando mi capita adesso di insegnare in alcuni corsi di montaggio è successo al centro, succede alla civica di Milano e questa cosa qui è un problema di infravitale cioè nel senso io quando vado a insegnare pur uscendo completamente distrutto molto di più che in una sessione di montaggio ho imparato delle cose degli allievi anziché il contrario capito? quindi è una cosa che a me fa molto piacere te la chiedo sicca, lo so che è difficilissimo ma nella lunga carriera di Perpignani c'è un suo film che ti è rimasto particolarmente nel cuore o che ti ha insegnato di più o che... ce ne sono molti non sono i migliori, sono dei film che riecheggiano in questo momento guarda caso in questo momento le cose che mi vengono più in mente è un po' come nei dischi dei Beatles io sono un grande amante dei Beatles per cui a seconda del mese in cui mi trovo ho il mio disco preferito questa è la fase Rubber Soul però c'è White Album c'è Sgt. Pepper e quindi con Perpignani cade la stessa cosa diciamo se devo dire due titoli in questo momento che riecheggiano sugli altri ma non perché sono meglio degli altri ma perché mi vengono più in mente uno è Sogni d'oro che so che in questa manifestazione è stato trattato pochi giorni fa e l'altro è Cesare deve morire quindi... e sono un film antico è un film molto recente relativamente recente sono quelli che in questo momento ricordo maggiormente però c'è anche su Sgt. Pepper e su Rubber Soul e quindi vabbè insomma le sono spiegato tutti grazie mille grazie a te questa cosa di Perpignani come Beatles è stupendo che stupendo